Ancora una tragedia della strada a Salerno. All'alba Vincenzo Esposito, 26enne di San Cipriano Picentino, è morto in un incidente avvenuto in via Ostaglio, periferia della città. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per causa in corso di accertamento, ha perso il controllo andandosi a schiantare. L'impatto è stato violentissimo, Vincenzo è praticamente morto sul colpo. Inutili purtroppo i soccorsi da parte dei medici e sanitari della Croce Bianca. Sul posto anche gli agenti della municipale e della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi. Si cerca di capire cosa abbia provocato la tragedia costata la vita ad un giovane molto conosciuto a San Cipriano. Dalle prime risultanze non sembrano esserci segni di impatto con altri veicoli, ma sull'asfalto, che era stato rifatto recentemente, ci sono dei segni di frenata. Vincenzo sarebbe finito contro un paletto che delimitava una proprietà privata di via Ostaglio al quartiere Forni di Salerno. Nelle immediate vicinanze dell'incidente non ci sono telecamere di videosorveglianza. Sconvolta la comunità sanciprianese, il sindaco Sonia Alfano si è stretta a nome di tutto il paese alla famiglia Esposito. Ci svegliamo con il cuore triste e dolorante per la perdita di un nostro giovane concittadino, il messaggio della fascia tricolore.